Collegamento Isernia-Adriatico, l'ultimo tratto della Fondovalle Sangro sarà appaltato entro dicembre 2016. In sostanza completati i lavori da Isernia dopo aver preso la superstrada per Castel di Sangro, si potrà continuare sulla Fondovalle Sangro senza deviare più per San D'Angelo del Pesco e Quadri. Un collegamento alternativo sia alla Trignina che alla Isernia sul Mona Pescara che consentirà così di raggiungere Lanciano-Fossa-Cesia e l'autostrada Adriatica in poco più di un'ora dal capoluogo Pentro. E quanto emerso dalla riunione di Pescara all'incontro erano presenti il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, il presidente della provincia di Isernia Lorenzo Coia, insieme al consigliere provinciale Mike Matticoli, il presidente della provincia di Chieti, i dirigenti dell'ANAS e i sindaci dei comuni dell'area interessata. Si tratta dei lavori del tratto di circa 6 chilometri che completerà la superstrada tra Tirreno e Adriatico, una infrastruttura attesa da 40 anni. Per il completamento del percorso c'è un finanziamento di 190 milioni di euro. La regione Abruzzo ha infatti messo in campo tutta una serie di iniziative, incontri, riunioni e gruppi di lavoro volti all'accelerazione delle procedure che hanno portato come primo risultato all'approvazione del progetto definitivo. Il presidente D'Alfonso ha anche sottoscritto un protocollo d'intesa col presidente dell'ANAS nel quale è stata data alla realizzazione dell'opera la priorità assoluta. Il suo costo è salito a 190 milioni di euro. La regione Abruzzo ha destinato all'interno delle risorse Masterplan Abruzzo Patto per il Sud l'importo di 78 milioni complementare a quello esistente di 112 per un totale di 190 milioni di euro. A fine agosto è anche giunto il parere favorevole del Comune di Quadri che ha consentito così di chiudere l'istruttoria e di avviare la fase realizzativa dell'opera. Per quanto riguarda i tempi il presidente D'Alfonso ha assicurato che la gara d'appalto partirà entro la fine dell'anno. Il completamento dell'infrastruttura richiederà la realizzazione di un tratto intermedio di poco più di 5 chilometri che va a sostituire gli attuali 6 chilometri di deviazione sulle strade interne molisane e abruzzesi che è da sempre un vero e proprio collo di bottiglia per il traffico.